Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio mostrarvi dove trovare il Dungeons segreto in Minecraft Dungeons nel livello Pascoli di Zucca. Finalmente ce l'ho fatta a trovarlo perché a differenza degli altri Dungeons, questo Dungeon compare random. Avete capito bene? Praticamente io adesso vi mostro il posto ma voi potete ripetere anche il livello 50 volte se siete sfortunati questo posto non compare. E quindi dovete finire il livello tante volte fino a quando non avete la fortuna di trovarlo. Adesso vi mostro la mappa. Praticamente se la vostra mappa è questa allora significa che siete fortunati e che quindi trovate il Dungeon segreto qui sulla mappa. Quindi una volta che siete entrati nella barchetta annientate i nemici che ci sono. Premetto che bisogna finire il gioco almeno una volta ed è indifferente la difficoltà. Cioè potete anche giocare il Dungeon a facile non cambia assolutamente nulla dovete solo essere fortunati. Se siete fortunati e vi compare questo Dungeon allora potete sbloccare appunto il Dungeon segreto. Se la mappa non è così riavviate il livello e ripetete, ripetete, ripetete tante e tante volte perché come vi ho anticipato si tratta di fortuna. Quindi il Dungeon in questione apparirà random. Insomma. Dopo funcini. Un'altra. ... Grazie a tutti.